Eccoci qua, partita da prima giornata credo, sicuramente non spettacolare dove due squadre si sono affrontate con la voglia di vincere, noi abbiamo fatto una partita bene nel primo quarto e dopo pian piano quando il ritmo, come ha fatto Avellino, ha cominciato ad abbassarci il ritmo difensivo e il numero dei possessi, abbiamo cominciato a fare un po' di fatica ad attaccare a metà campo, siamo rimasti comunque solidi a livello difensivo perché farne fare 66 da Avellino in casa proprio vuol dire che la squadra ha dimostrato carattere fino in fondo, peccato perché il terzo quarto ci ha tolto un po' di fiducia a livello balistico e dopo abbiamo sbagliato tante cose facili, non parlo al di là dei due possessi di Reynolds si parla anche prima, un paio di lay up di Amedeo, un paio di chili liberi di Marco Svini insomma abbiamo sbagliato delle cose facili ma noi dobbiamo abituarci a giocare questo tipo di partite per il resto ho visto una squadra con carattere, desiderosa, una squadra anche emozionata ma è quello che sapevamo ma è quello che volevamo quindi una squadra che abbia motivazione e abbia carattere e credo che sul campo oggi siamo viste ed è questa la cosa migliore che portiamo a casa della partita di oggi per il resto sapevamo che c'è tanto da lavorare e questa partita ci ha dato da lato tante indicazioni sia a livello positivo che a livello negativo